No, delusione no, perché abbiamo fatto un'ottima prestazione contro una squadra che ha qualità. Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo preso un gol, il secondo è evitabilissimo, però tutto sommato la prestazione è buona. Primo tempo aggressivo, avete giocato alti, soprattutto con una grande attenzione, soprattutto sulle corsie esterne, una fase offensiva. Abbiamo avuto delle ripartenze positive, abbiamo sbagliato le scelte finali, però penso che in complesso la prestazione è stata molto buona. È una squadra rivoluzionata, quali sono gli obiettivi? Gli obiettivi sono quello di fare il meglio possibile, quindi ci lavoriamo tutti i giorni per portare questa squadra a confrontarci con le squadre magari più attrezzate di noi. Ecco, la C è un campionato, fra virgolette, strano, però è un campionato dove alla fine poi le qualità si compengono anche con l'intensità e la fisicità. È normale, la parità di qualità, intensità e fisicità escono fuori le qualità. Noi oggi abbiamo messo in campo tutte queste componenti, quindi la prestazione mi rende soddisfatto. Una curiosità, perché un capitano del 2006? Così, perché mi piace Bando come giocatore, come ragazzo e quindi ho scelto di fare capitano lui. L'Arezzo è una squadra che può lottare per l'Abido, può stasera confermare questa opinione? No, sì, è una squadra attrezzata per lottare e andare a vincere il campionato, quindi l'abbiamo visto, è giocatore di qualità, quindi può fare veramente un buon campionato.